La storia del basket irrompe in maniera prepotente al Centro Arti Visive Pescheria di Pesero. Inaugurata il 22 aprile, una mostra straordinaria, la mostra dedicata ai 45 anni di Super Basket, ogni declinazione del basket, dall'NBA al basket italiano, alla VL Padrona di Casa, fino alle nazionali, la nazionale italiana, e anche tutte le declinazioni della storia dello sport, della pallacanestro, fin dagli origini del 1891, sono nelle due sale del Centro Arti Visive Pescheria. Una mostra straordinaria che unisce il concetto di Pesero, capitale italiana della cultura 2024, a Pesero, capitale del basket, in un accordo tra l'assessorato di Daniele Vimini, che è coordinato la capitale della cultura, con la direzione di Super Basket. L'idea è partita da me perché conosco bene la realtà di Pesero, sapendo quello che è Pesero, la pallacanestro in questa città, ho pensato di andare su una città del genere, su una città del basket, piuttosto che sulla classica Milano-Roma. Sono sicuro di aver fatto una scelta giusta perché sono sicuro che i tifosi pesaresi verranno a vedere la mostra. È una grande occasione perché sono i 45 anni, l'anniversario dalla nascita di Super Basket, che è il 1978, grazie ad Aldo Giordani, e per festeggiare, per celebrare un evento così importante, abbiamo pensato di mettere in piedi una cosa molto grande, che è Super Basket Memorabilia, una mostra unica, mai fatta prima, non solo in Italia ma neanche in Europa. Una mostra straordinaria in cui c'è davvero di tutto, le casacche ufficiali, le scarpe, i polsini, i cimeli, i gadget e naturalmente le copertine più significative della storia di Super Basket. Tutto questo appartiene ad un'unica persona e questo rende ancora più straordinaria questa mostra che non ha uguali a livello europeo, appartiene tutto ad Alberto Cecere, collezionista incredibile che tra l'altro ha portato qui a Pesero appena un terzo della sua collezione. Ieri sera, quando abbiamo terminato, sono entrato e ho detto che ecco il matto che ha tutto questo materiale, poi mi sono detto che sono io, ed è molto difficile riuscire a conservare la memoria di questa disciplina. A Pesero abbiamo fatto una cosa unica, forse irripetibile, ma sicuramente in Europa non si è mai vista e quindi sono grato molto a questa città. 45 anni di Super Basket, quanti anni invece per dedicarsi a questa raccolta? Una trentina abbondanti, ho iniziato molto piano, molto presto. Il mio primo ricordo è un polsino arancione sfilato a un giocatore al termine di una partita, io lo mettevo sempre anche quando andavo a mesa, poi pian piano con l'era di internet tutto è diventato più facile, ma soprattutto un grande ringraziamento a dirigenti, giocatori, semplici appassionati che hanno contribuito donando molti oggetti a questa collezione. Ma la sfida impegnativa è stata quella di creare un percorso storico-culturale e infatti nel loggiato abbiamo predisposto diverse stazioni che raccontano la storia fino dalle sue origini e accompagnano il visitatore attraverso un mondo della pallacanestro a volte non raccontato. La mostra sarà visitabile fino alle 4 di giugno. Al taglio del nastro presente anche una leggenda come Dan Peterson, un personaggio simbolo della pallacanestro che ha attraversato tanti di questi momenti esposti nella mostra del centro pescheria e ha ricordato con piacere anche i suoi anni da rivale in una Pesaro che era qualcosa davvero di particolare nel mondo del basket italiano. Per me la hangar di Pesaro via le partigiane era l'impianto più per basket in Italia, c'è un rettangolo vero, non un uvale, c'è un rettangolo con i tifosi vicini e proprio al campo, e le tribune che non andavano indietro, andavano in alto, quindi effetto cattino come si dice. E quindi grande atmosfera, grandi tifosi, grandi tifosi e poi grande squadra, grandi allenatori, Niccoli Scanzi, Ragnio Bertini, tutti quanti. Quindi è stato veramente venire qui ogni volta un onore, un piacere, partite durissime, abbiamo preso anche, quindi però un grande stimolo. E quindi a maggior ragione è il luogo giusto per un'esposizione di questo tipo? Assolutamente, e qui ovviamente è Super Basket che lo fa per festeggiare 45 anni. Io sono direttore di Super Basket, ma io di questo qui prendo di merito per il 0%, perché l'ha fatto tutto, l'editore Giampiero Crubi, il curatore Alberto Cecere, il 100% del merito di questa grande esposizione, di grande mostra è di loro, e io sono come tutti gli altri meravigliato da quello che l'ha fatto. Grazie.